Siamo trovati in svantaggio dopo 5 minuti dove effettivamente dovevamo prendere un attimo le misure una volta prese le misure credo che insomma al primo tempo l'abbiamo chiuso meritatamente in vantaggio anzi forse potevamo avere qualche goletta in più e poi nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare forse c'è mancata un po' di vemenza che avevamo avuto nel primo tempo però poi gli episodi quando vengono contro poi si pagano e per assurdo torniamo a casa con una sconfitta quando insomma forse avremmo recriminato anche forse per un pareggio perché pensavamo di aver fatto una bella partita e pensavamo di meritare qualcosa in più Da Pomini le riporto testualmente le parole del presidente del Pescara Sebastiani ai nostri microfoni arrabbiatissimo per il primo tempo se il Palermo avesse fatto 4 gol non avrebbe rubato nulla poi chiedo a Pomini invece l'ultima mezz'ora cosa è successo avete un po' sofferto Bruno davanti alla difesa con Brugman più alto e alla fine anche il 4-3-3 Sì sono d'accordo nel senso che nel primo tempo abbiamo macinato e abbiamo avuto una qualità di gioco notevole abbiamo avuto tante occasioni in tante occasioni bisogna dire che è stato bravo anche Fiorillo visto che tra colleghi insomma è giusto anche farsi un po' forza Complimenti anche a lei per la parata su Graviglione Lo so però è servita un po' meno e poi nel secondo tempo forse anche un po' di calo fisico anche un po' nel momento in cui Memouchet ha segnato il 2-2 è normale che l'inerzia della partita poi tenda a cambiare perché comunque il Pescara ha trovato coraggio noi probabilmente avevamo meno fiato perché comunque avevamo speso molto fiato nel primo tempo e poi su un calcio d'angolo, su una pallina attiva è venuto il 3-2 sono le dinamiche del calcio purtroppo sono così e dobbiamo accettarlo però ti ripeto deve rimanere comunque il fatto di aver fatto una buona prestazione di essere ancora lì, sapevamo insomma che i tre punti sarebbero stati importanti però nulla è perduto, guardiamo avanti con fiducia e cerchiamo già di pensare alla partita di lunedì Cosa vi ha detto Stellone negli Spogliadoi? Ma a grosso modo quello che ho detto io in questo momento nel senso che dobbiamo essere contenti, dobbiamo rammaricarci perché comunque gli episodi alla fine poi pesano però dobbiamo guardare avanti con fiducia e pensare alla partita di lunedì perché credo insomma che con delle prestazioni del genere alla lunga poi i risultati vengono dalla tua parte